Ed eccola la festa per i 100 anni dell'aeronautica militare, la più giovane delle forze armate italiane, eseguita il 28 marzo 1923, Roma, l'Italia, a Piazza del Popolo e alla terrazza del Pincio, dove in corso la cerimonia ufficiale e il palco presidenziale, con la partecipazione del Presidente della Repubblica, Fergio Mattarella, festeggia un centenario importante. A Piazza del Popolo c'è il villaggio dell'aeronautica militare, con l'esposizione di aerei, elicotteri, scolaresche in visita che provano l'ebbrezza dei simulatori di volo. C'è una notevole partecipazione, in Piazza del Popolo è davvero piena di persone che aspettano anche l'esibizione della pazzuglia acrobatica, delle frecce tricolori. È una bella pagina di storia italiana e non solo di storia militare, di storia identitaria italiana. La più giovane delle forze armate italiane compie 100 anni.